ci siamo ci siamo c'è subito feeling questione di feeling questione di feeling che fai di là la telecamera ragazza è compulsiva è compulsiva anche lei anche lei anche lei perché lui è videologo è un medico è videologia videologia si è stato atti immagino laureato si vede dalla faccia laureato rave non mi fede in cosa vuol dire la traduzione mister rave rave party mister rave grandissima ragazza nel 2020 abbiamo trovato un nuovo slogan non lo chiameremo più mister dei ma lo chiameremo mister rave grandi lo sapevo che la mia amica scintillante vieni qua che scintilli quello ecco che fai ma no non sta più in piedi ok fantastico da dove venite da dove venite ragazzi venite allora ragazzi ci siamo allora per far capire che venite da travagliato dovete mettervi aspetta tutto in fila voi ragazzi allora mi raccomando allora fatemi vi voglio fantine voi è giusto allora ragazzi venite al galoppo venite al galoppo arrivano gli amici da travagliato al galoppo al galoppo al galoppo ecco venite eccoli qua arrivano al galoppo mettetevi davanti alla vostra fantina e possibilmente a 90 a 90 ecco ecco e no no va bene così ragazzi e fatemi fatemi un nitrito giusto per capire questo ha delle speranze notturne questo ha sputato ma non dovevi sputare dovevi fare il cavallo tu l'hai già fatto perfetto perfetto ok allora mettetevi a 90 ragazze fatemi fatemi stateli uno schiaffone uno schiaffone vai vai così salite al galoppo al galoppo al galoppo al galoppo ragazzi al galoppo al galoppo signore e signori ecco a voi indovinate indovinate da dove vengono questi qui vediamo se indovinate vengono fatemi fatemi da rodeo da rodeo signori e signori ve la do io la soluzione questo gruppo viene da travagliato grandi fatemi gli auguri dagli auguri abbracciati gli auguri